Amici di TV Vianar 2000, ecco con noi ospite di questa intervista, Paolo Anelli, abbiamo anche Fabrizio Di Piazza che si vergogna, cerca di passare ma invece noi l'abbiamo colto. Allora, rapido, rapido, Anelli come al solito ha vinto per culo, al terzo setto un tiebrecone con Adriano Pedosanto che certamente avrebbe meritato di vincere, stava 7 a 4 al tiebrecone. Adriano sta ancora sul campo ciclo che si recca le ferite, non si muove più, secondo me non dormirà per tre giorni. 7 a 4 e comunque 8 a 7 poi. Per cui insomma ha due punti dal match, ha vinto il primo facile facile, quindi un grandissimo Pietrosanto. 6 a 3 per lui, 6 a 2 per te, stai brecconi, 18. Ma ti ha servito sul muro qualche volta? Ti ha servito sul muro? No, mai. Il cazzo di Mancino è? Adriano, mannaggia, tutto te lo spiega. Niente, non sei. Vabbè, niente, quindi Anelli ha sculato anche questa sera. Il resto ancora in A, vai. Il resto ancora in A, vai. Il resto ancora in A, va beh, immeritatamente. Qui abbiamo chi ci sta per tornare in A, buonasera. Abbiamo una zona ai Palermi. Esatto, sono io. Che ha fatto un amichevole con Fabrizio, un sette pari. No, non ho fatto un amichevole, abbiamo cominciato il terzo ma è finito il tempo sul 3 a 1 per lui. Ma se non era amichevole potevate fare il tiebrecone. E' fatto che abbiate fatto il terzo sette. Comunque 3 a 1 per di piazza? Terzo sì. E allora ci dice Flavio Bini che la partita l'ha vinta di piazza. Dai, fate uscire Fabrizio se c'è ancora tempo per... Se no mi fai la tele e gioco io che a posto di Fabrizio vale, giusto? Certo. Qui abbiamo Mazzonna che ha corso subito a segnare il suo match. Anche se era un amichevole. Era un amichevole, ha segnato. Ma bisogna dire una cosa che Mazzonna è stato benedetto... Scusate un attimo, scusate. Intervistiamo anche Adriano. Mazzonna è stato benedetto da due passaggi del maestro Fabio. Uno nel primo sette e quindi ha vinto il primo sette. E uno sul secondo... Il primo sette il passaggio mi sa che è stato lungo. È stato fatto un lungo passaggio, sì. Eccolo qua, eccolo qua. Poi è arrivato il maestro Fabio nel secondo sette, sul quattro pari e naturalmente... Mazzonna... Hai rischiato pure in statura con voi? Però pari rischiato non direi... Cioè, com'è il punteggio? 6-1-6-4. Però il secondo sette, secondo sette, un culo. Ma il maestro Fabio è arrivato lui con i doppi palli di Adriano. Allora il maestro Fabio porta sfiga ai mancini. Porta sfiga ai mancini. I palli degli ultimi due mesi. Siamo iniziati. E' 18 al tempo e cazzo, no. Sono cazzato, lo fuoco al deviato. Adriano non dormirà. No, mi trova sempre in modo di inizio. No, misurata in peradunata. È una vergogna. È una vergogna. Poi siete misurati in peradunata, lo so. Quanto è? 37? No, no, maestro Fabio, non scherziamo qui. Non scherziamo. Lo Strasbir, lo Strasbir. Dai, ce la puoi fare, Mazzonna. No, no, non scherziamo. Comunque Mazzonna ha un culo, guarda. Diciamoci, dai, ammetti che c'è culo, dai. Boris, ma dimmi la tua partita come sta. Io ti posso dire che quando sei passato tu sul quattro pari del secondo setto ho detto Marco, andiamo subito al cambio campo perché tanto. Abbiamo fatto un game che è durato mezz'ora? Stai dicendo che è 20 minuti abbondanti? È stato un momento in cui sono stato lì sopra un 20 minuti. Devo dire, forse non mi avete visto. No, io purtroppo l'ho visto. Era proprio quel game lì. Era proprio quel game lì. Almeno 30 vantaggi c'hai avuto. Esatto, è un game che è durato 25 minuti. Poi c'è qua sotto Palermi e Di Piazza, un gran match. Grande amichevole, grande amichevole. Povero Adriano, povero Adriano. Guarda, Adriano. Guarda, Adriano. Hai perso 18 al Tebrecone con Eli. Hai perso 18 al Tebrecone? Quindi il primo e te l'hai vinto tu. Sei tra il primo io, sei due secondo lui. Al Tebrecone vincevo 7 a 3. Però possiamo affermare che ormai Adriano è una certezza... Adriano è un candidato al Top 20. Per buona pace di del nostro Spons. Sì, Spons. Un pensiero per Spons, dai. Io credo che Spons avrà tutte le possibilità di questo mondo di godersi il torneo di fascia E.B. Nel prossimo anno. Sì, eh? Ah, quindi sei... Mi espondo, mi espondo. No, lo faremo in primavera, un altro rodeo. In rodeo lì a primavera, Spons sarà intorno ai 30-35 ormai affermato. Spons potrebbe anche essere in Top 20. Vai. E anche in Top 20, esattamente. Ciao ragazzi. Poi ho il wildcard lì. Va bene, va bene, va bene. Allora, niente, non ci sono altre dichiarazioni questa sera? Ci sono notizie dagli avvocati di Spons? Ehm, a quanto pare ci hanno fatto fuori. Quando si scioglie la gloria dell'igualtà. Uno scambio in rete, Boris, veramente bravo. Un'agilità, poi hai sbagliato una palla, fai che fai. Lo so, io l'ho passato, mi pare, 99 volte su 100. Sì, sì, sì. Ma ho visto uno che ha recuperato una gran palla. Passavamo all'inizio, poi non lo so. Vabbè, c'è da dire che io la partita l'ho fatta io nel bene e nel male, perché quando ho fatto 18 doppi falli nel primo sette, infatti ha vinto lui. Ma guarda com'è felice, c'è un sorriso. Vabbè, ma c'è un culo. Ma c'è un culo. Ma prima o poi. Ma prima o poi. Ma prima o poi. Ti si ritorcerà tutto insieme contro. E scenderai all'ottantesima posizione. E noi saremo lì che diremo, vedi come Anelli sta nella posizione che merita finalmente. Va bene. Amici di Buviar 2000, anche per questa sera è tutto. Il povero Adriano Pietro Santo sta qui. Speriamo che non... Non so che in che piglio tornare a casa. E poi è troppo lungo. Vabbè, buonanotte a tutti. Comunque se avete un buonanotte. Buonanotte. Vi sono... Grazie.